Liliana Ingenito, presidentessa del Proloco di Mazzara del Vallo, che accompagna questa quarta edizione di Le Vie dei Tesori a Mazzara del Vallo. Il primo weekend è andato, come? Allora, bilancio più che positivo per il primo weekend del Festival Le Vie dei Tesori, che per il quarto anno consecutivo abbraccia Mazzara del Vallo. Abbiamo avuto un'ottima affluenza, anche se c'era una bellissima giornata, il Palazzo Vescovile ovviamente ha avuto il boom dei visitatori e c'è già il sold out per il prossimo weekend. Ma nulla a togliere alla Chiesa di San Francesco, che ha registrato tantissime presenze, così come anche il Seminario dei Chierici, la Cappella Ottocentesca, la Biblioteca e il Fondo Antico. Discreto successo anche per le passeggiate, Casba by Night e per le vie del centro storico e anche le esperienze, perché ci sono delle splendide esperienze, tra cui il giro in barca, l'aperitivo in barca, l'aperitivo sensoriale all'interno di una dimora storica e poi gli atelier d'arte, Casa Lombardo, Atelier Bianco e anche la Casa Museo dei Fratelli Denaro, dove è nata una corrente artistica, che è il Metasur, quindi la fusione tra la metafisica e surrealismo. Stiamo lavorando già e pubblicizzando il secondo weekend, ma penso che andrà benissimo, perché Mazzara, come dicevo, è una città splendida, è una città che ha messo in risalto la multietnicità e la multiculturalità proprio della nostra gente.